2.800 kg di hashish ed un milione di pasticche di anfetamine per un valore di 40 milioni di euro. Un vero e proprio colpo al traffico di stupefacenti grazie ad un maxi sequestro di droga al porto di Salerno è stato quello inflitto dalla Guardia di Finanza alle prime luci dell'alba. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione di Settuale Antimafia Partenopea, ha sequestrato all'interno di un container in sossa al porto di Salerno 2.800 kg di hashish e un milione di pasticche di anfetamine del peso complessivo di 190 kg. Gli stupefacenti erano nascosti in un carico di copertura di oltre 4.500 capi di abbigliamento di varie marche, risultati contraffatti anch'essi sottoposti a sequestro. L'ispezione del container è avvenuta in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e con l'impiego di un apparato scanner. L'individuazione del carico è il frutto dell'incrocio delle risultanze investigative del Gigo di Napoli con l'analisi della documentazione acquisita presso le società di navigazione da cui è emerso che il container era giunto dalla Siria presso il porto di Salerno. La stessa agenzia delle Dogane, infatti, aveva già interdetto l'uscita dal porto del container in attesa di una ispezione doganale, in quanto dall'analisi di rischio era emersa un'anomalia della rotta commerciale. Per quanto riguarda le droghe sintetiche, secondo quanto evidenzia la finanza, si tratta di un sequestro di assoluta rilevanza sia per il quantitativo sia per il particolare allarme sociale legato all'utilizzo di tali sostanze, soprattutto da parte dei giovani.